Amici di Volley Umbria, buonasera e ben ritrovati con il nostro approfondimento Volley Umbria TV. Questa è una settimana importante per il mondo della pallavolo regionale, in particolar modo per una squadra. Bartoccini Forti Infissi Perugia, che è attesa dalla trasferta di Cremona una partita che, secondo quelle che sono le combinazioni della classifica appunto dei punteggi, potrebbe portare direttamente in Serie A 1 la squadra del presidente Antonio Bartoccini, dei suoi soci, del capitano Ima Sirressi e del coach Andrea Giovi. Oggi abbiamo qui con noi, ed è un grande piacere, appunto il capitano Ima Sirressi. Ciao Ima, ben trovata. Buonasera e grazie dell'invito. Chiaramente è una settimana in cui ci dedichiamo alla Bartoccini, ci scuseranno le altre società di cui spesso ci occupiamo durante la settimana, nei commenti, nei bilanci, che chiaramente facciamo con il nostro Raffaello Agea. Ciao Raffaello, ben ritrovato. Buonasera a tutti, buonasera. Anche a te, ma riteniamo che questa sia la settimana da dedicare alla Bartoccini, speriamo di dedicargli anche la prossima, perché vuol dire che avremo qualcosa da raccontare, però è una settimana importante per il movimento pallavoristico, anche regionale, lo voglio dire, senza poi creare quella sorta di invidie che abitualmente possono anche accadere, perché una squadra che torna in Serie A 1 è un importante segnale anche per il movimento regionale, per quelle realtà che sono vicine alla Bartoccini, penso alla School Volley, ma anche per tutti quelli che magari hanno l'ambizione di crescere delle giocatrici all'interno del proprio settore giovanile, perché no, magari avere dentro la propria regione, dentro la città, una squadra che le possa attenzionare. Io credo in questo tipo di movimento e auspichiamo chiaramente che ci possa essere questo bellissimo risultato che bisserebbe l'altra grande soddisfazione, Garaimma, che la Bartoccini ha già conquistato a Trieste. Le soddisfazioni quest'anno bisogna prenderle al Nord, questo ormai è certificato, quindi come vi state preparando a questa partita? Allora, questa settimana è una settimana importantissima, quella che definisce tutto. Sicuramente la dobbiamo vivere con la gioia, le stesse emozioni della Coppa Italia un po'. Non con quella pressione, quell'ansietta un po' bruttina, no, perché non ce n'è, assolutamente, con quella gioia di voler andare a prendere questa vittoria. Però non dobbiamo nemmeno fare l'errore di aspettare, di aspettare sia quando inizia la partita, nel punteggio, nel non spingere, perché poi diventa pericolosissimo. Aspettare, perché magari hai tre partite, hai tempo, no. Dobbiamo vedere questa partita, secondo me, come l'ultima, come la finale. Bene, questo è il messaggio del capitano. Allora, poi lascerò a Raffaello, che è molto più tecnico di me, un commento su di te, anche se sono su di te, penso che parli noi fatti, le partite, quando la gente ti viene a vedere. Recuperi i palloni in ogni dove, sembra una sorta di portiere del calcio, che si tuffa da una parte e dall'altra pur di riuscire. Infatti non so se sei appassionata anche di nuoto, perché fai certi tuffi incredibili. No, l'acqua non è il mio habitat. Però veramente, qualche volta fai dei recuperi incredibili. È evidente, insomma, che il tuo apporto sotto l'aspetto, diciamo, della gestione dello spogliatoio, anche sotto l'aspetto tecnico, è stato fondamentale. Per te tornare qui, cosa ha significato? E soprattutto, diciamo, che realtà hai ritrovato? Penso anche, forse, una Perugia diversa rispetto a quella che avevi conosciuto. Sì, una Perugia che aveva voglia, voglia di vincere. Ha fatto tutto nel modo giusto, ha fatto un bel lavoro dal punto di vista anche fisioterapico, dal punto di vista dell'integrazione, staff. C'è stato un bel lavoro che, secondo me, ha contribuito a farci arrivare qui, dove siamo. E quindi, per me, essere qui e far ritornare Perugia in Serie A è un onore per me. Io volevo farlo, ci sono riuscita ed è stato un bellissimo percorso. Con tutte queste ragazze, con questa società, con cui mi sono trovata bene anche due anni fa, però sicuramente i risultati sono stati un po' diversi. C'è stato gusto in questo percorso. Ci sono state tante emozioni che mi porterò sempre. Penso, forse, le paragono anche un po' alla vittoria dello Scudetto. Ma, grazie, questo è un paragono. Perché, sì, perché sicuramente il percorso è come una sorta di play-off. È stato lungo, ogni partita è una finale, tirate, tutte le partite. E quindi l'ho vissuta con la stessa intensità. Leggo nei tuoi occhi un po' di emozione. Allora passo la parola a Raffaello, che possa, in un certo senso, darti un po' di respiro rispetto a questi bei sentimenti che hai trasferito. Su Imma, caro Raffaello, penso che potremmo scrivere libri, libri. Diciamo che la fama la precede, 18 stagioni in Serie A 1. Io ho bisogno, ci vogliono gli appunti per il suo palmaresse. Insomma, non è una Champions League, un campionato, anche ha vestito la maglia della nazionale, titoli anche con la nazionale, titoli anche nelle giovanili. Quindi è una presenza molto, molto importante. Però, diceva Imma, la pressione, Billie Jean King, non so se la conosce, una tennista eccezionale, dice che la pressione è un privilegio. E quindi è un privilegio che non può mancare in campo, secondo me. E quando uno supera la pressione, come avete fatto voi, perché vincere la Coppa Italia e anche vincere domenica non era certamente scontato. Ci è voluta una grande attenzione ed è veramente una vittoria, possiamo dire, veramente di squadra. Camminfacendo si è dimostrato che, pur con delle alternanze, seppur con gli asset trovati al momento giusto, partita per partita, siete diventati, lo eravate già all'inizio, ma siete ancora più squadra e questo dimostra tutto il vostro valore. E se posso dire, con una special mention per te, il fatto che nella pola volo moderna il ruolo del libero sia assolutamente fondamentale. Tu sei capitano, ma forse è una diminuzio quella di capitano, sei il ministro della difesa, possiamo dire, nella tua squadra e in quelle precedenti. Perché, insomma, io amo molto anche i numeri, però i numeri vanno letti e vanno sintetizzati, va portato un contenuto ai numeri. È vero che le tue due compagne di seconda linea sono molto bersagliate, è vero che forse tu hai ricevuto un pochino meno, però in fase di break, ovviamente, quando si tira su quel pallone in più, che dipende prima di tutto da quello che scatta qui, piuttosto che da quello che scatta nelle braccia e nelle gambe, perché la tecnica è, come dire, è sopraffina e basilare. Nel nostro caso scatta quel qualcosa in più che fa volare la squadra. Fa volare la squadra e, mi piace dirlo, fa volare anche il pubblico, perché domenica, l'abbiamo detto poco fa, a microfoni spienti, quando il Palazzo, per una azione molto lunga, con dei recuperi, dei salvataggi, dove tutta la squadra gira nel modo giusto, c'è un applauso o c'è un no, questo è, ovviamente, una spinta in più a fare bene. E posso anche dire che Perugia ha fame di pallavolo e ha fame della vostra pallavolo. Beh, dopo questa ringa tra l'avvocato Agea... Pagliamo più. È difficile... Finiamo la trasmissione. È difficile poter replicare, però sostanzialmente, Raffaello dall'alto, insomma, delle sue conoscenze, della sua passione per la pallavolo, credo che abbia un po' centrato. Tu sei un po' il talento e il fuoriclasse di questa squadra che interviene nei momenti decisivi. A me è piaciuto molto quando lui dice tu spesso ci arrivi prima con la testa che con le braccia e con le gambe, perché ormai conosci le dinamiche. Questo, per chi vede dal di fuori, lo si percepisce in maniera chiara. Allora, sì, lui dice della pressione. A me piace la pressione. Piace, anzi, quando arriva riesco a tirar fuori il meglio di me. Non sempre, nel senso capita che magari non riesce a trasformare quella emotività in quella forza, perché non è facile la gestione della pressione. Però è bella. È bella ed è tipica di quei giocatori che secondo me poi sono forti. I giocatori forti, quando c'è la pressione, vengono fuori. Noi siamo state molto brave quando siamo state più o meno sotto pressione quasi sempre. Dall'inizio. Anzi, penso che più siamo in difficoltà e più veniamo fuori. Questo è stato il nostro punto di forza. Poi, come dici, il nostro sistema muro difesa è forte. È forte ed è il motivo per cui poi quando ci regalano la palla poi lì per loro è molto difficile contrastarci. Quindi quella è stata la chiave, secondo me, del nostro sistema di gioco. Il contrattacco, perché poi gli attaccanti forti ce li abbiamo e la difesa è stata la nostra arma, l'anima di tutto. Sì, ma infatti anche nell'ultima partita il set che avessi eseguito, loro avevano una centrale molto forte che ha giocato molto bene, bottezzato, che ha giocato molto bene a muro, ha fatto sei muri vincenti e così. Però non è stato... infatti la chiave di lettura è proprio quella del collegamento muro difesa. Poi dopo, nel quarto set, quando quell'asset ha cominciato a funzionare, come ha sempre funzionato durante il campionato, credo che non ci sia stata più storia. Cioè, l'attacco è volato, con percentuali... In partite di quel genere certamente la percentuale dell'attacco non è altissima, ma quando arriva un break point come quello del quarto set, significa che tu le hai messe a terra, le avversari, ed è la cosa che ho visto molte volte durante il campionato. Posso dire anche nella finale di Trieste, questa è stata una chiave fondamentale di lettura, perché vincere in quel modo non era scontato e significa che le alchimie hanno funzionato in modo perfetto. Questo significa che la trasformazione della pressione della quale parlavi, che a te piace molto, probabilmente, anzi quasi sicuramente, l'hai trasmessa alle tue compagne, a quelle meno esperte, quelle che erano meno abituate a palcoscenici di questo genere e a subire la pressione, ma trasformarla in energia positiva. Sì, perché so benissimo che in quelle partite, soprattutto le finali, partite importanti, il giocare punto a punto non è facile, quindi il margine d'errore diminuisce, quindi devi subito fare il cambio palla, massimo due cambio palla, infatti poi in settimana ci alleniamo molto su questo, nel cambiare subito, perché poi di là hai squadre forti che non ti danno la possibilità, cioè non sbagliano, non ti regalano, quindi tu devi cambiare subito e quello è il valore di una grande squadra, la gestione dell'errore. Assolutamente sì, e poi però possiamo dare anche una special mention al capo del laboratorio, ovviamente, perché se i cambi, qualcuno dice i cambi sono azzeccati, ma non è che li tira fuori dal cilindro i cambi, l'allenatore, come nella finale di Coppa Italia, o come è successo in campionato, anche quelli che sappiamo quando entra messaggi al posto di Bartolini per la battuta, quella è una roba studiata prima, ma anche quando si è in difficoltà non è il coniglio tirato fuori dal cilindro, significa che questo è frutto di un grande lavoro e anche su questo va data una special mention ad Andrea Giovi. Quando ospiteremo, daremo il giusto tributo anche a coach Giovi, invece da te voglio raccogliere anche qualche simpatico aneddoto che riguarda questa stagione, perché abbiamo avuto Ricci la settimana scorsa che ci ha detto che spesso in partita litiga con Cogliando perché Cogliando vuole sempre la palla e Ricci dice comando io e quindi la prendi quando te la dico io. Tu hai qualche aneddoto a raccontare a qualche compagno, chiaramente è un'esperienza di spogliatoio talmente importante, però quest'anno che spogliatoio è stato? Che hai trovato? Guarda, posso scrivere un libro, potremmo stare qui altre dieci registrazioni, però, allora, il momento più bello è lo spogliatoio, comunque i momenti prima della partita, ma anche in settimana è tutto molto intenso, ma noi ci sentiamo anche con Irene tutti i giorni, ci chiamiamo, mettendoci anche un po' di ansia, anche un po' di paura. Irene, domenica c'è Alvese, ma subito dal lunedì, perché il fatto di metterci anche quell'ansia, come diceva prima, volevo anche trasferirlo agli altri, cioè non è perché la vittoria comunque ti porta a rilassarti un po'. Quindi lunedì, ritornare a rimettere ansia, un po' quella paura che poi devi ritrasformare di nuovo la domenica, però lo facevo anche apposta, perché teneva il nostro livello di attenzione alto. Irene, c'è Alvese, come facciamo? Ho paura, ho paura anch'io, anch'io ho paura a Imma. Era tutto così, di nuovo, poi il lunedì di nuovo contro Padova, anche con magari squadre che sulla carta diceva, vinciamo, ma quello è stato il nostro punto di forza, rimanere giù con la testa, sempre, anzi, a volte troppa, perché l'abbiamo vissuto anche, io ho avuto dei momenti difficili, anche dove ho avuto dei momenti di difficoltà, lo ammetto, perché le responsabilità erano tante, sono una che si mette un sacco, se le prende, se le prende, mi caricavo anche di troppa responsabilità anche di tutti e a volte non riuscivo, ho passato settimane dove le ragazze mi hanno aiutato anche, però poi la soddisfazione che ho avuto poi nel gioire quella coppa, nel risultato, nel avere il risultato è tanta, quando poi soffri. Senti, ma la più simpatica, matta dello spogliatoio invece quella più seria? Ma guarda, non ce ne sono sane, non ce ne sono sane nello spogliatoio, hanno tutte varie problematiche di ogni tipo. Noi vediamo un traballo, ad esempio forse la ragazza, no, anche Gaia. No, sì, forse Gaia, è ancora un po' più equilibrata, un pochino più razionale, però no, ognuno a modo suo è particolare, guarda, non ce ne sono, non te ne salvo nemmeno una. È giusto non salvarne nemmeno una. C'è un'altra cosa che vorrei chiederti, l'ambiente, cioè quest'anno Perugia, anche a livello di ambiente, di partecipazione alle partite, di seguito pensiamo ai tifosi a Trieste, speriamo domenica anche a Cremona perché ci sarà questa contemporaneità con la partita della SIR, è qualcosa, non so se possiamo riferirlo di nuovo, però sicuramente di emozionante e anche di piacevole da vedere, da affrontare. Sì, io sono contenta di quello che abbiamo raggiunto, di tutta la gente che ci venne a trovare la domenica, ci ho lavorato un po', cioè all'inizio ho provato sempre ad andare dai tifosi, volevo arrivare a questo, per noi è importante essere a Trieste, all'inizio, mi ricordo, a Trieste vedevamo solo i tifosi di Busto, erano arrivati per primi, e io pensavo ma i nostri dove sono? perché si sentivano quelli un po' che c'erano, i nostri erano tanti, però erano arrivati più tardi, quindi pensavo ma i nostri dove sono? Mi stavo un po' preoccupando perché avevo bisogno di quella piccola spinta, a un certo punto ho visto arrivare una massa tutti neri, con ste bandiere, cioè per noi è stata una carica, noi l'abbiamo sentiti, Asia poi soprattutto Asia ha bisogno di quell'energia e per noi è tanto, cioè ci aiuta, ci aiuta, ci carichiamo tantissimo, lo facciamo anche per loro, quando facciamo il punto ci giriamo perché noi abbiamo bisogno e ne vogliamo sempre di più, anche a Cremona spero che vengano in tanti perché queste vittorie sono anche le loro. Assolutamente, è una vittoria di Natifusia di una città che attende chiaramente e il ritorno ad una pallavolo femminile diciamo che che conta perché Perugia lo sappiamo tutti, ci sono anche non so se sei mai stata lì al termine del minimetro sono esposti tutti i trofei della Sirio, è una cosa anche abbastanza affascinante, infatti speriamo che possano essere create una sorta di bacheca lì al Palabartano perché sarebbe molto bello però Perugia ha una tradizione e sentire magari giocatrici importanti come te avere questa fame ancora di vittorie per se stessi ma per la squadra ma anche per la città è sicuramente uno stimolo importante e forse è questo l'upgrade che ha fatto quest'anno la Bartocini forte in fissi per aver ricreato l'entusiasmo oggi si parla di pallavolo Perugia non tanto non ce ne vorranno gli amici e tifosi della Sirio non tanto legata alla Sirio ma anche a quelle che simbolicamente definiamo le freghe che sono questo termine il dialetto Perugino in Perugino però diciamo ma che hanno fatto le freghe come sono andate adesso tanti io anche da giornalista al di là che collaboro con la società tante persone con cui abitualmente condivido anche altre passioni diciamo allora la Bartocini quando è che vai guarda bisogna aspettare perché però si è creato un movimento di attenzione che secondo me può essere soltanto che fuoriero di nuove e future diciamo soddisfazioni anche sotto l'aspetto ambientale Raffaello ti chiedo poi lo chiederemo anche a Imma che avversario è Cremona perché chiaramente noi con l'Oster dobbiamo fare i conti nel senso che allora Cremona certamente è fuori dal discorso playoff e come dicevamo domenica in cabina di commento con Nicolo Brillo possono arrivare delle prestazioni di squadre che nulla hanno da perdere e che magari fanno il match della vita posso fare una piccola paragone stanotte io sono stato in piedi per vedere Luca Nardi un pesarese che oltre è che ha vinto con Diokovic va bene non è che ha giocato male Diokovic ma non è che gliel'ha regalata e quindi possono arrivare anche prestazioni di questo tipo però devo dire che l'aver trasformato questo tipo perché anche questa è una grossa pressione come la pressione c'è stata per tutto quanto il campionato che arrivava dall'ambiente diceva ma questi hanno vinto sempre e vincono anche domenica non è una roba ormai è scontato e non è scontato invece il fatto di aver perso solo due partite va bene e possiamo rifinire che sono incidenti di percorso che possono capitare anche a tutti ma possiamo dire che la posta in gioco pur essendo alta è certamente alla loro portata ho visto qualcosa di Cremona degli ultimi match e come lo è stata all'andata e alla portata anche in trasferta certo si parlerà di festeggiamenti speriamo non lo vogliamo dire a latitudini diverse rispetto alle nostre ma questa è una cosa sarebbe una cosa fantastica e aggiungo anche questo che riprendendo il discorso di Imma relativo al tifo all'ambiente che si è creato quest'anno la Bartoccini ha vinto speriamo che vincerà promuoverà l'in bocca al lupo serve sempre ci vuole sempre ma ha vinto anche l'Oscar della simpatia perché a Trieste se tutte le altre squadre i tifosi delle altre squadre tranne ovviamente quelli di Busto hanno tifato per la Bartoccini un motivo ci sarà non è non è soltanto l'appassionato di pallavolo che ne sa qualcosa di tecnica che ha visto qualcosa in più significa che loro hanno vinto anche l'Oscar della simpatia ed è bello dire che l'Oscar della simpatia e della della voglia di fare pallavolo sia venuta a Perugia beh questo è fatto bene a sottolinearlo perché eravamo lì tutti esatto io lo dicevo ad Antonio Bartoccini che era vicino a me che quando insomma noi muravamo diciamo che quell'effetto un po' sonoro che avviene appunto durante un muro era molto più forte quando lo faceva Perugia piuttosto che quando lo faceva Busto quindi siete riusciti questa è una grande capacità che avete avuto in quel contesto ma penso anche in senso generale di attrarre la vostra simpatia anche nel contesto di tifosi diversi da quelli di Perugia tu che parti da ti aspetti al di là della quella che definiscono quella cut sim come definiscono i napoletani che è giusto mettere in campo che crei sin dai primi giorni della settimana che ambiente ti aspetti che situazione immagini beh una partita non facile come tutte queste che stiamo affrontando perché noi siamo sicuramente un po' stanchi forse tutte tutte le squadre è stata lunga un po' stanche a livello psicofisico sicuramente loro non hanno nulla da perdere quando una squadra non ha niente da perdere gioca tranquilla sicuramente le squadre stanno esprimendo un bel gioco dal punto di vista tattico tecnico tutte hanno alzato tantissimo il livello stanno bene tutte fisicamente ci aspetta una partita difficile dove noi per vincere dobbiamo giocare forte sempre tutte tutte a tutta niente dobbiamo andare lì giocare il nostro pallavolo bene punto a punto e poi e non dargli spazio attaccare subito con il nostro cambio palla perché è quello che non permette l'avversario perché poi l'arma che hanno con noi è la battuta aggredirci in battuta e lì dobbiamo essere solidi quando siamo forti lì poi sappiamo che vinciamo nel nostro contrattacco quindi dobbiamo essere aggressivi nel nostro cambio palla costanti come dei martelli pneumatici immagino che avrei già iniziato Giovi il suo staff chiaramente noi parliamo di Andrea ma c'è anche Guido ci sono tanti altri ragazzi che sono al cospetto di questo staff che ha alzato un po' anche il livello delle prestazioni della squadra va dato merito anche a Giovi e ai suoi ragazzi che hanno fatto davvero un bel lavoro poi c'è Imma che dal lunedì ho già iniziato stamattina è già iniziato perché oggi noi stiamo registrando di martedì ma è come se fosse diciamo però la frase iniziale è stata questa è la settimana del trionfo vediamo cosa dobbiamo fare vediamo cosa dobbiamo fare questa è la frase e speriamo insomma di poter raccontare noi martedì prossimo ci eravamo lasciati con Ricci con questo auspicio di perché con Raffaello spesso noi parliamo anche di pallavolo regionale squadra di B1 di B2 della nostra regione però ci siamo detti questo è il momento in cui ci dobbiamo dedicare alla Bartocini perché segna un momento storico appunto della nostra stagione sportiva e anche credo un po' della pallavolo della nostra città quindi speriamo che la prossima settimana avremo un nuovo ospite per festeggiare magari porteremo Giovi che verrà in Vespa chissà se papà adesso lancia una sfida a papà Giovi se fa la Vespa anche per la promozione della Bartocini se c'è la Vespa agli Olimpiadi facciamo anche la Vespa per la promozione magari la promoveremo vedremo Giovi che arriva in Vespa che festeggia la promozione ma grazie non aggiungo altro perché questa è la settimana importante però ci siamo già detti tanto quindi la speranza anzi questo lo voglio dire è che ci rivediamo presto per parlare del futuro perché questa è un'altra cosa che è giusto mettere vista anche la tua esperienza le tue capacità insomma che vanno al di fuori del saper ricevere e tuffarti perché io veramente a chi era vicino non mi ha fatto nuoto gli faceva i tuffi dal trampolio perché a volte fai delle cose veramente questo è il tuo reato complimenti assolutamente ho visto dei recuperi incredibili e quindi spero di trovarti presto soprattutto speriamo domenica insieme di poter gioire e festeggiare racconteremo a Perugia questa bella esperienza da Bartocini Raffaello tu aspettaci qui a Perugia perché ho capito che non vieni non lo so io sono molto tentato di venire il cuore il cuore mi dice di venire ma alla fine anche la testa mi dirà di venire bene allora cercheremo di riformare quello splendido gruppo che c'è stato a Trieste nella speranza che anche questa volta sia fuoriero di risultati positivi e di vittorie grazie a chi ci ha seguito sui canali social Facebook e Youtube di Volli Umbria e chi ci seguirà su Rete Sole Umbria nella prima missione di giovedì alle 20.30 poi chiaramente le repliche di venerdì intorno a mezzanotte e cosa dire auguriamo a Perugia di centrare nei prossimi giorni un altro grande risultato sportivo della sua storia pallavolistica e soprattutto facciamo un augurio ad Antonio Bartocini ai suoi soci a Ciro Iacone a Gargai a Gatti e soprattutto a tutta la squadra che qui è rappresentata da Ima ad Andrea Giovi veramente di riuscire a togliersi questa bellissima altra soddisfazione di questa stagione che rimarrà sicuramente negli annali della pallavolo perugina grazie a presto e a martedì prossimo e forza Bartocini forti in fissi Perugia buonasera buonasera buonasera